Faccio parte del consiglio di amministrazione delle biblioteche che con grande piacere e un pizzico di orgoglio partecipa a questa manifestazione dal primo giorno in cui è nata, perché le biblioteche hanno più di un elemento di unione con questo evento di promozione del libro e della lettura, perché come sapete, come sa Antonio più di tutti gli altri, ma non solo lui certamente, soprattutto nelle società sedentarie non esiste viaggio senza racconto, di qualsiasi genere sia. I nomadi fatti che sono sempre in viaggio non viaggiano, rispettabilissima società, rispettabilissima cultura, ma il viaggio è tipico delle nostre società occidentali, scusate, sedentarie ed è il viaggio ha la sua motivazione nel racconto di qualsiasi genere sia e il racconto finora storicamente ha trovato nel libro tutte le sue forme la sua definitiva compiutezza. Questo ci rende fortemente affini alla sensibilità che un'iniziativa del genere propone. Per questo le biblioteche che sono coinvolte nella fase preliminare alla manifestazione sono biblioteche sparse in tutti i quartieri della città, non solo in quelli periferici, come pure è stato detto, ma sono quelle del quarticciolo, la casa del parco che sta dalle parti non lontano dal Polichinico Giamelli, la casa delle traduzioni che è in centro, Borghesiana, che è un quartiere assai difficile, un quartiere con fortissima immigrazione, con difficoltà di integrazione e di inclusione sociale assai rilevante, Valle Aurelia e Enzo Tortora che come sapete sta a testaccio. Quindi ci sono peculiarità dei quartieri e delle biblioteche molto diverse tra loro. A tutte è stato proposto, verrà proposto, in qualche caso con proiezioni ad hoc, in altri casi con proiezioni in loop, questo materiale legato a Dante che come è stato detto cerca un dialogo con i luoghi, un dialogo pertinente, un dialogo che cerca di costruire dei campi semantici comuni. Da questo punto di vista le biblioteche hanno un altro scopo, oltre che, come dire, farsi notare e proporsi. Voi spero tutti sappiate che a Roma le biblioteche sono circa 40, spero che tutti abbiate la tessera delle biblioteche perché andate periodicamente a prendere dei libri, che è la prima risposta efficace alla spending review. Non so quanti di voi lo facciano, ma comunque chi non lo fa lo deve fare. per un fatto di salute mentale e culturale e per un fatto di mantenimento del tessuto sociale. Le identità culturali e collettive si giocano su questo, non su altro. Se no ce ne sono altre che però non vanno bene. Evitiamo discorsi più approfonditi su questo versante qua. Quindi voi sapete che ci sono 40 presidi culturali, 40 proposte culturali sistematiche sul territorio che fanno questo e che durante l'anno, ben oltre il periodo per forza di cose breve in cui si tiene questo festival delle letterature di viaggio, ma come si tengono anche gli altri festival in Roma, che non sono pochi, che non sono pochi, Roma su questo ha un primato, conserverà questi titoli e li potrà proporre a tutti voi. Cioè quello che vedete andando a Villace di Montana potrete, se non ce la fate a comprarlo, trovarlo in prestito nelle biblioteche, potete leggerlo e portarvelo a casa nelle biblioteche, continuando un lavoro qualificato al servizio di questa esperienza culturale. Ultima cosa, ancora per allargare il discorso della funzione culturale che un'iniziativa del genere può avere, Roma è una città, lo dicono come dire anche a sproposso, una vocazione turistica. Questo è uno dei più grandi equivoci che ci sono negli ultimi anni, nel senso che c'è stata un'interpretazione di questa vocazione turistica legata alla cultura, che è un'interpretazione per cui i beni culturali si vendono al turismo, mentre invece i beni culturali si devono fruire dai cittadini e quindi condividere con i turisti che pervengano. Una diversa sensibilità sul turismo è data anche da chi abita nelle città. Chi abita nelle città e conosce in modo qualificato la letteratura dei viaggi, le culture di altre popolazioni, le culture di altri luoghi è capace anche di interpretare in modo diverso e più qualificato, direi con una parola chiare, responsabile, il rapporto con l'industria del turismo di massa che rischia di togliere molto più di quello che dà. Per cui le sfaccettature, per cui biblioteche e il festival dei libbi di viaggio si sono incontrate, sono molte e sono assolutamente preziose. Grazie.